Amorein, perché è la prima società focalizzata al 100% sui semi. Stiamo andando alla fonte della nutrizione, alla sua sede. Nella fisiologia umana ci sono in realtà 12 vitamine che il nostro corpo richiede ogni giorno. Ci sono 17 minerali che il nostro corpo richiede ogni giorno, 9 amminoacidi essenziali e alcuni grassi essenziali. La caratteristica unica dei semi è che contengono tutte queste quattro aree. La cosa che più mi piace in Soul è l'abbinamento molto semplice. Si basa sull'unione di ingredienti principali. Il cumino nero, il seme di lampone nero, i semi di uva chardonnay e il di robosio. Questo è tutto. Utilizziamo tutto dal seme. L'effetto sinergico nell'uso di questo prodotto è che le persone realmente possono sentire e dare la propria esperienza. Questa è la sua forza. L'effetto sinergico nell'uso di questo prodotto è che il nostro corpo richiede ogni giorno. L'effetto sinergico nell'uso di questo prodotto è che il nostro corpo richiede ogni giorno. L'effetto sinergico nell'uso di questo prodotto è che il nostro corpo richiede ogni giorno. L'effetto sinergico nell'uso di questo prodotto è che il nostro corpo richiede ogni giorno. L'effetto sinergico nell'uso di questo prodotto è che il nostro corpo richiede ogni giorno.